Prima della partita si poteva affermare che questo Juve Milan arrivava troppo presto per stabilire già una gerarchia di valori del campionato. Ora dopo la partita si può dire che anche la rete di Casireghi è arrivata troppo presto per poter assistere ad un match spettacolare. Rivisitando la cronaca dividiamo l'incontro in almeno quattro fasi. Nella prima fino al trentesimo del primo tempo i bianconeri dimostrano una concentrazione, un temperamento da primato passando in vantaggio proprio con l'attaccante monzese. Nella seconda fase e cioè negli ultimi 15 minuti della frazione i rossoneri escono dall'anonimato, si scrollano di dosso l'alibi dell'assenza di Van Basten e cominciano ad essere se stessi. La terza fase della gara coinvolge i primi 25 minuti della ripresa mettendo in rilevo la condotta rinunciataria della Juve, il dominio a tutto campo del Milan ma anche l'assoluta mancanza di conclusioni sui due fronti. È Gullit al ventesettesimo a spezzare l'incantesimo e lasciare intendere che il pareggio non è un'utopia. Nell'ultimo periodo dell'incontro e cioè nel convulso finale il farsing degli uomini di capello diventa serrato e al novantunesimo minuto e 15 secondi un'autorete di Carrera premia la lunga rincorsa del Milan. La Juve si è adattata tatticamente all'avversario in modo impeccabile schierando quattro laterali al pari del Milan, arretrando Casiraghi per creare spazio a beneficio di Baggio e sfoggiando una retroguardia nella quale Kohler è in condizioni straordinarie. Se tuttavia per mezz'ora i torinesi hanno saputo ribattere colpo su colpo trascinati da un dilagante schillaci poi sono passati dalla difesa attiva alla difesa totalmente passiva senza ombra di azione di alleggerimento o di contropiede. E sullo spartiacque fra questa Juve A e questa Juve B si è innestato il crescendo rossonero. Il Milan non è piaciuto nella prima parte della gara quasi intimidito dall'assenza di Van Basten e dalla determinazione degli avversari. Successivamente in sostanza per un'ora di gioco è emersa la nuova dimensione della squadra di capello e cioè magari meno ossessionata dal fuorigioco e dal pressing ma sempre dotata di una capacità di palleggio presa possibile da anni di affiatamento. La formazione tipo dell'immediato futuro appare già un rompicapo per il tecnico. Van Basten ha bisogno di Serena così come il Milan necessita della fantasia di Donadoni e così come fa molto comodo il Gullit tornante destro della ripresa.